Oggi prepariamo insieme la pizza piena, un rustico tipico napoletano che si prepara a Pasqua. Inizia mescolando la farina con il sale. Al centro metti l'acqua e lo strutto. Impasta il tutto e fai riposare in frigo per mezz'ora. Nel frattempo sbatti le uova con sale e pepe ed aggiungi salumi e i formaggi a cubetti. Io ho utilizzato prosciutto cotto, salame e provolone, sia dolce che piccante. Dividi in due l'impasto, stendi in un pezzo e fodera uno stampo del diametro di 24 cm dopo averlo unto con olio o strutto. A questo punto versa il ripieno e chiudi con l'impasto che hai tenuto da parte. Bucherella la superficie e spennella con un uovo sbattuto con un pochino d'acqua. Cuoci in forno prediscaldato statico a 170 gradi per circa un'ora. Lascia raffreddare completamente prima di servire. Se ti è piaciuta la ricetta, salvala e condividila nelle tue storie. Grazie.